La scuola non è solo didattica, la scuola è relazione, è crescita, è speranza. Pur comprendendo la gravità della pandemia in Italia e in Veneto, dal centro della famiglia di Treviso si leva una forte critica, unita a un'altrettanto forte preoccupazione per la chiusura fino al 31 gennaio delle scuole superiori. Siamo sconcertati per l'ennesima chiusura delle scuole superiori e di fronte a questo siamo in difficoltà. Indubbiamente sono state procrastinate scelte importanti a livello dei trasporti o di evitamento degli assembramenti post scuola, però un'ulteriore mancanza della scuola superiore avrà delle ricadute importanti in termini psicologici e relazionali. Centro della famiglia che ha analizzato le conseguenze psicologiche del Covid, confrontando accessi e problematiche prima e dopo la pandemia e durante l'emergenza stessa, sottolineando le differenti reazioni tra prima e seconda ondata. La seconda ondata e la continuazione della pandemia, senza sapere quando questa finirà, praticamente ci ha colpito con un doppio colpo. Aggravando fragilità già esistenti o creando nuovi casi di disagio, ansia, ostilità, disturbi del sonno, addirittura depressione, alcuni dei sintomi maggiormente accentuati tra settembre e novembre di quest'anno. Hanno resistito meglio le famiglie con i figli dell'età della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Hanno un po' più accusato il colpo le famiglie e soprattutto i figli adolescenti e tardo-adolescenti costretti a vivere la dimensione scolastica dentro le quattro mura di casa. Sicuramente hanno fatto molta fatica anche tutti gli operatori del settore socio-sanitario. Grazie. 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 Grazie.